solo dopo il ponte festivo del primo giugno i francesi procederanno ad aperture più audaci ma già nel fine settimana molti parchi pubblici hanno tolto i sigilli e in molti hanno approfittato del bel tempo per mettere il naso fuori restano i gesti barriera come dicono oltre alpe distanza fisica mascherina e gel idroalcolico a portata di mano mentre Parigi resta sorvegliata speciale lunedì è il D-Day oltre manica malgrado il parere poco favorevole degli esperti che stando ai numeri parlano ancora di un indice di trasmissione del covid troppo elevato non si può stare in confinamento per sempre ha dichiarato il ministro degli esteri Dominic Rabba precisendo che in caso di nuovi focolai tutto è pronto per chiusure locali la situazione resta comunque sotto stretto controllo da lunedì anche gli anziani potranno tornare a uscire di casa al terzo giorno di deconfinamento la Scozia invece vede sereno all'orizzonte in Spagna il premier Pedro Sanchez ha chiesto di prolungare lo stato d'emergenza fino al 21 giugno estensione che sarà votata in Parlamento mercoledì la Spagna resta uno dei paesi europei più martoriati dalla pandemia il premier Pedro Sanchez ha comunque precisato la capacità decisionale in quest'ultima fase di de-escalation spetterà alle regioni l'unica cosa che rimarrà nelle mani del governo saranno gli spostamenti in attesa che riaprano i musei vaticani il prossimo 2 giugno il Papa si è rivolto questa domenica per la prima volta negli ultimi tre mesi ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro nel rispetto del distanziamento fisico Piazza San Pietro è stata riaperta lo scorso lunedì il deconfinamento cambia da regione a regione in Russia a Mosca si può già uscire di casa per fare una passeggiata rispettando però un calendario preciso in una seconda fase si apriranno parchi e negozi e si consentirà di fare sport le misure di confinamento restano in vigore fino al 14 giugno a Mosca si può già uscire di casa in Piazza San Pietro